Situazioni equivoche, comicità, belle donne ed un matrimonio da celebrare. Sono questi gli ingredienti del nuovo Cine Panettone di Massimo Boldi, a Natale mi sposo, un film diretto da Paolo Costello. Noi siamo venuti qui a Roma per l'anteprima presso il Cinema Adriano per saperne di più. La pellicola girata tra Roma e St. Mauriz prevede un cast veramente eccezionale. Tra i protagonisti, Nancy Brilli, Vincenzo Salè, Mellore Dana De Nardis, Enzo Salvi e un nostro conoscente comune, ovvero Massimo Marino. Ma che te devi confessare? Te devi scaricare la coscienza. Io veramente mi sono già scaricato ieri sera con la limonata Roger. Eh sì sì, è una cosa molto difficile, però a chi lo dico? A me ma devi dire, c'ho il segreto professionale. Mica stiamo a smacchiare i giaguari. Quando vedi lei? Ma che dici? Quando la vedi lei? Stai attento, stai attento. Gli do la benedizione. Allora innanzitutto. Allora innanzitutto di mondo stiamo? Innanzitutto, allora è un po' presto per le interviste tue. Sì, è vero? Eh sì, eh. Allora signori, quest'uomo è il numero uno. Posso dirlo? Grazie. Sì, è veramente, oltre ad essere un grande attore, è un grande... È un grande? Attore. No, no, stavo petino all'uomo volgare. Allora Massimo, a Natale mi sposo, tu conteso tra due danni in questo film? Sì, però alla fine mi accoppio con lui. Mi l'hai detto? Questo lo scupa. No, lo scupa, la verità. Comunque noi vogliamo dirvi a tutti che il film esce oggi e fa molto ridere. È già uscito? Ah, è già uscito. Non ti ha informato. Vengati. Mi sveglio verso l'uno. Come è stato lavorare con questo cast? Enzo Salvi, Nancy Brilli, tutti gli altri protagonisti del film. Niente, ho provato ad accoppiarmi con qualsiasi... Stai stupendo. Non si può dire? E come no? Non si può dire. Ma subitino ma è proprio roba da educande? Poi ti sta fermando i trafficieri. Fammi il gesto. Il mandingo degli operatori. Fammi il gesto. C'è? Cosa sta? Cosa sta? Ecco Massimo. Bene, siamo qui con i protagonisti e col padron di casa Massimo Boldi. Ben trovati ragazzi. Ma ben trovata te, cara. Benvenuti al sud. No, bella sorellina. No, benvenuti a Roma. Benvenuti a Roma. Massimo. Non fa la stupita stasera, porta la gente al cinema. Diedesi. Diedesi. Porta, vabbè insomma. Il cinema è pieno questa sera. Questa sera è pieno. È una serata... è la prima praticamente in tutta Italia e in tutto il mondo. Svizzera comprende. È una lunga serie Massimino. Anche in Svizzera andiamo eh. Anche in Svizzera. Massimino, potresti dire al popolo di Roma che ci sta guardando chi è Massimo Marino sul film? Allora, Massimo Marino è Don Matrix. Perché è Don Matrix? Spiegatelo tu. Po' occhiali. Eh, po' no. Occhiali e la tunica però con la sciarpa della Roma. Roma, forza Roma. Per forza. Allora, vi dico una cosa. Io sono milanese, però, de core, sono l'ubacchiotto. Banna di ascolazioni! Massimo, una domanda. Ma a distanza di 30 anni da questo genere di commedia disimpegnata, qual è il credito del vostro successo poi, di questi film? È che fa morire!